Eccoci qua, eccoci qua che lo scusa se ho eliminato l'altro video di prima ma purtroppo mi è arrivato violazione del, rivendicazione del copyright precisamente io quindi cerco di rispettare tutte le regole che ci sono di Facebook la mia chitarra è sempre pronta più che mai, eccola qua, capo tasto al secondo tasto messo stasera però proveremo insieme ai The Running Mates Hoy to my family, The Cranberries dai, suoniamo insieme non 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 Grazie a tutti. 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 Ciao, alla prossima canzone.